Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò sono la regina. A te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. 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 nella divina volontà. Stavo seguendo il giro per tutta la creazione ed avevo investito cielo, sole, mare, insomma tutte le cose create col mio ti amo, ti adoro, ti benedico per decantare la gloria al mio creatore in tutta la creazione. Ora mentre ciò facevo il mio dolce Gesù si è mosso dentro di me e mi ha detto figlia mia ascolta insieme con me tutte le armonie della creazione senti il mare mormora e in quel mormorio si sente una nota più bella cioè il ti amo ti adoro ti benedico la gloria che era piccola figlia del mio volere mormora insieme col mare e facendo mormorare tutto il mare fa dire alle acque i suoi amorosi ritornelli al suo creatore o come acquista il mare altre note di armonia di bellezza altri suoni più belli perché la mia piccola figlia emette la sua voce nella mia volontà e rende il mare parlante e le dà la gloria del mare al suo creatore senti anche il sole nella sua luce che piove dal cielo ed investe tutta la terra piove insieme le tue note armoniose i tuoi grandi ritornelli ti amo ti glorifico ti benedico ti adoro perché essendo una la volontà divina che regna in te così regna nel sole ed o come eloquente parla la luce come scorre nel calore l'amore al suo creatore e quante nuove armonie e note non acquista perché c'è la piccola figlia del supremo volere che mette i suoi atti in esso e facendo una la sua volontà con la creazione tutta somministra la sua voce e di suoi atti a tutte le cose create senti la natura del mare del sole non hanno virtù di parlare e trovare chi vive nel mio volere che comunica la sua voce e di suoi atti ad essi è la cosa più sorprendente è la gloria più grande che puoi dare al tuo creatore sicché non c'è cosa creata che non resta investita dai tuoi atti ed io mi diletto di ascoltare le tue note e di tuoi ripetuti ritornelli nel cielo nell'aria nel vento nell'acqua che piove nell'uccellino che canta in tutto e voglio che anche tu insieme con me senti le tue stesse armonie che formi in tutta la creazione figlia mia il più piccolo moto anche il più piccolo respiro tutto nella mia divina volontà è tutto di Dio ed essendo suo vi trova tutto ciò che è suo vi trova la santità divina nell'atto fatto nel mio fiat divino vi trova la luce vi trova la sua bontà il suo amore la sua potenza in quell'atto non manca nulla di ciò che a Dio appartiene perciò si possono chiamare atti divini che sono i più belli i più santi ed i più graditi ed innanzi a questi atti tutti gli altri atti per quanto buoni perdono il loro valore il loro gusto e mai mi possono piacere succede come ad un signore ricchissimo che possiede ricchezze giardini poteri coi frutti più belli che nessuno li può eguagliare ora questo signore conoscendo che nessun altro tiene i frutti e le cose buone come le sue se i figli i servi portano i frutti dei suoi giardini lui li gradisce li gusta con amore mangiando una sazietà ma se gli portano frutti di poteri altrui lui non li gusterà perché vedrà subito la gran differenza li troverà difettosi acerbi disgustosi si lamenterà con i suoi che hanno ardito di portargli frutti e robe non suoi così succede a noi tutto ciò che si fa nella nostra divina volontà sono robe nostre frutti degli interminabili nostri poderi e come cose nostre non troviamo nulla che non sia degno della nostra divinità e perciò prendiamo tutti i gusti nel riceverli invece ciò che è fatto fuori del nostro divino volere è roba a noi estranea manca l'impolontà divina sono senza pienezza di gusti di luce di santità di dolcezza il volere umano anche nelle cose più buone mette sempre la parte acerba che disgusta le cose più belle e perciò vedendo che non sono robe dei nostri proderi frutti della nostra volontà divina se non li mettiamo da parte e molte volte neppure li guardiamo perciò ti raccomando che nulla ti faccia sfuggire che non entri nella luce del mio fiat supremo affinché tutto sia roba nostra e sommamente a noi gradita bene oggi il signore torna a istruirci ulteriormente sull'importanza di un atto particolare tra quelli che si fanno vivendo nella divina volontà che è usando parafrasando un'espressione di gesù rendere la creazione parlante lui usa questa espressione il riferimento al mare quando dice la mia piccola figlia e mette la sua voce nella mia volontà e rende il mare parlante si tratta di di peculiarità del tutto singolari ecco queste cose sono proprio quelle più specifiche sicuramente alcune di quelle di cui Gesù in dei scritti dice leggi di tutti quanti i libri di spiritualità che vuoi vedi se hai trovato le stesse cose che ti sto dicendo io sinceramente magari se qualcuno che ascolta questa meditazione conosce qualcosa mi contattasse insomma queste cose non le avevo mai sentite dire la sacra scrittura per esempio i salmi di lode lodano dio con parole meravigliose per la sua creazione a volte come il bellissimo salmo non il salmo che non il cantico dei giovani nella fornace invitano tutta quanta la creazione ad elevare le rodi a dio angeli del signore benedite voi tutti i cieli benedite il signore ecco che siete sopra i cieli benedite il signore quindi è una cosa grande però se io invito che ne so gli animali a benedire il signore forse loro lo faranno a modo loro insomma quindi già nelle loro operazioni che sono tutte quante figlie della divina volontà certamente loderanno dio ma loro non parlano quindi non possono lodare il signore come lo odiamo noi quindi qui però si tratta semplicemente non semplicemente di invitarle alla lode le creature non intelligenti oppure lodare il creatore per averle create per le perfezioni che ne si asseminate no no qui si tratta di di renderle parlanti quindi di entrare in esse di ricevere quell'atto di andare a riconoscere quell'atto della volontà divina in quella creatura riceverla e innanzitutto lo lodare benedire ringraziare il signore per quello che ha creato e poi mettere il proprio ti amo ti adoro ti benedico ti ringrazio ti glorifico eccetera nella creatura stessa perché la stessa volontà divina che anima la creatura intelligente che fa quest'atto Luisa speriamo anche io e te essendo la medesima divina volontà che ha creato e che si trova in quella creatura possa restituire la stessa volontà divina attraverso però questo intervento una sorta di intervento sacerdotale della creatura più intelligente che è l'uomo nei confronti del resto della creazione facendo questo atto restituisce a Dio la perfettissima gloria che gli ha dovuta atto divino quindi compiuto nella divina volontà atto che come dire è la massima come dire espressività della lode della gratitudine dovuta dalla creatura al creatore no? intanto fa bene ricordare ricordiamo sempre che quando si fanno queste operazioni con le creature deve partire diciamo così un movimento spirituale che anche se a volte si realizza in maniera molto molto repentina quasi istantanea però è riconoscere e prendere l'amore di Dio in quella creatura e anzitutto ricambiarlo con il proprio personale grazie e mettere il proprio grazie e ti amo in quella creatura stessa perché Dio possa ricevere da essa attraverso la mia mediazione una gloria completamente divina perché radicata nella sua divina volontà e poi attenzione fare offrire al Signore l'intenzione che queste operazioni siano fatte nella divina volontà ma non solo a nome mio ma anche per tutti specialmente per tutte le persone che non gli passa neanche per l'anticamera del cervello non solo di fare queste operazioni ma nemmeno di dire grazie a Dio per quello che ha creato quindi ricevere un ti amo ricambiare il ti amo mettere il proprio ti amo e ricambiare il molto ricevuto da Dio per sé e per tutti sono queste sono questi passaggi e la nostra natura purtroppo purtroppo come ben sappiamo probabilmente dipende dal fatto che ancora la vita della divina volontà è poco formata in noi c'è poca attenzione c'è poca corrispondizione e non sempre ecco è facile moltiplicare questi 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 atti non sempre le circostanze diciamo così ci agevolano non sempre si riesce a a percepire l'importanza e la grandezza di queste operazioni ecco perché Gesù ci dice sta attenta che è la cosa più sorprendente è la cosa più grande che puoi dare al tuo creatore perché le creature non hanno virtù di parlare dice Gesù e trovare nel mio volere che comunica la sua voce e i suoi atti ad essi è la cosa più sorprendente ed è la gloria più grande che puoi dare al tuo creatore cioè Gesù ci dice queste cose perché questa esperienza abbastanza diffusa comprensibile non si riesce non si riesce a prendere ordinariamente piena coscienza della grandezza e dell'importanza di questi atti appunto di quanto Dio è contento di vederli e di quanti gloria gli danno Gesù dice io mi diletto di ascoltare le tue note e i tuoi ripetuti ritornelli io mi diletto come sarà stata la vita divisa insomma sicuramente vederla almeno parlo per me ci farebbe vergognare perché ti puoi immaginare questa creatura che fosse molto sollecita molto attiva nel compiere questa operazione e io spero che in molti ecco siano così solleciti e attivi come come lei no? l'esperienza la percezione che si ha è che punto primo si fa un pochino di fatica ad entrare in questo modo di pregare punto secondo spesso si fa come dire fatica a comprendere l'importanza anche della reiterazione di di questi atti su questo è importante come nell'esercizio delle virtù almeno così a me sembra ho imparato ad esprimermi in termini di questo genere perché la nostra conoscenza è sempre molto imperfetta la nostra miseria è molto grande non è affatto detto che si comprendano bene le cose a me sembra da quello che riesco a constatare facendo un pochino di di punti della situazione ecco alla luce dei dati di cui sono a disposizione sì dalla luce dei dati che sono a mia disposizione che ho a disposizione che anche per questo è importante la ripetizione la ripetizione come per tutto quello che accade in questo mondo una virtù nasce in noi questo lo dicevano già i classici attraverso la ripetizione degli atti molte volte il nostro signore ci mette come dice la scrittura la prova è perché la prova ci mette l'occasione di esercitare quegli atti perché se noi gli atti non li esercitiamo purtroppo ne perdiamo l'abitudine e li perdiamo la nostra vita è fatta così la nostra vita terrena siamo cangianti siamo mutevoli siamo in continuo di venire dicevano già i filosofi greci per cui questo vale in tutte le cose l'abbiamo detto già tantissime volte le esperienze di vita sono tanti chi studia sa bene che per passare un esame devi ripetere 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 perché tu hai letto un libro va bene lo hai capito bene ma sicuramente con una sola lettura non te lo ricordi devi ripetere e poi ripetere e poi ripetere fino a quando fino a quando non ti accorgi che certi concetti si sono fissati nella tua memoria li padroneggi e quindi se puoi fare un esame sei in grado di rispondere alle domande che ti vengono fatte perché sei padrone per fare questo non basta che tu il libro lo hai letto e lo hai capito è necessario che tu il libro lo legga e lo capisca ma poi devi esercitarti se una persona fa sport lo vede subito è lo sport è un conto che si è allenato un conto che non si è allenato per essere allenato ci deve essere una minima regolarità quindi una ripetizione a seconda poi del livello sportivo nel corso del tempo se tu fai uno sport una volta a settimana avrai l'allenamento di una volta a settimana tre volte a settimana è maggiore tutti i giorni è maggiore a livello agonistico sono delle ore che tutti i giorni tutti i giorni devi dedicarti a questa cosa e se stai ad alti livelli se solo un giorno non la fai si sente non è che non si sente poi devi recuperare è cosa nota gli atleti i musicisti è la stessa cosa stessa identica cosa imparare una lingua stessa identica cosa cioè ripetizione 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 perché la nostra struttura attuale umana è fatta così e per cui se noi non mettiamo come dire in routine alcune cose e poi ognuno si deve come vedere le cose che entra un pochino più portato insomma degli atti che ripetiamo tutti i giorni per esempio il mangiare il dormire il mangiare a me sembra una cosa abbastanza facile perché mangiando tutti i giorni se uno diciamo così si sforza un pochino e si abitua a fare gli atti quando mangia quindi a ricevere tutti quanti ti amo qualunque cosa lo mangi anche se fa pane acqua è la stessa cosa perché anche il pane insomma c'è un ti amo dell'altissimo e anche l'acqua insomma quindi c'è chi è più portato diciamo così a familiarizzare con con i giri e con i ti amo che si fanno sulle realtà naturali quindi sul canto di un uccellino quando esce che vede il sole che vede il cielo che vede un albero quindi le cose diciamo così create adesso che tra poco arriverà l'estate l'estate dovrebbe essere un momento meraviglioso ecco se gli uomini fossero capaci di santificare l'estate immaginiamo che che bello che sarebbe poter frequentare le spiagge senza pericolo di essere in continuazione insomma come dire violentati con spettacoli che diventano un'occasione di peccati di occhi e di pensieri per quanto riguarda l'impurità per la corruzione per la per la corruzione dei dei costumi che ci stanno in atto quindi addirittura per qualcuno non si può neanche andare non può neanche andare a godersi la bellezza del mare o del sole nel mare o della sabbia insomma perché le volontomere degli uomini lo rendono praticamente quasi impossibile la montagna i bei giri che si fanno le belle passeggiate che si fanno in montagna e la voglia a fare giri quindi esercitare anche un pochino la nostra facoltà contemplativa quindi nel guardare con attenzione quindi io per esempio tante volte ho detto non ci capisco niente però nel senso che non sono in grado proprio l'ambito di mie competenze io non so distinguere quasi quasi senza quasi quasi insomma un pioppo da da una quercia conosco questi nomi per riminiscenza sì magari la quercia forse un pochino me la ricordo come è fatta un pino magari sì però cioè se tu mi dici un leccio un terebinto anche alcuni termini che si usano nella scrittura non è il mio campo insomma no certo se passeggio in un bosco lo vedo che gli alberi non sono proprio tutti quanti uguali quindi anche se non so nemmeno come si chiamano non conosco le loro peculiarità c'è comunque la possibilità di ammirare la grandezza e la varietà delle opere di Dio e mettere tutti quanti i nostri ti amo no più si fanno queste operazioni e meglio è certamente bisogna guardarsi credo dai due estremi o della trascuratezza quindi del non del non applicarsi appunto del non esercitarsi per nulla in questi in queste divine operazioni così come dal farsi prendere come dire dall'ansia dalla dalla smania di di strafare oppure ecco di moltiplicare questi atti magari anche a discapito dei nostri doveri insomma del nostro lavoro quindi ci capiamo in che senso occorre sempre camminare ecco con questa luce che imploriamo dal Signore che ci doni la grazia ecco di poter far bene ecco il bene far bene tutte le cose no ora Gesù conclude ecco con un con un paneggirico di queste operazioni ricordando che nella divina volontà anche gli atti più piccoli perfino un respiro diventa atto divino tutto è di Dio e si diletta la divinità stessa e Gesù ci ricorda si possono chiamare atti divini quante volte ci siamo detti compiere un atto nella divina volontà significa trasformare un atto umano di per sé finito imperfetto illimitato in un atto divino che è perfetto infinito immenso eterno eccetera no e e poi Gesù fa alcuni esempi soliti esempi no cioè se un Signore ricchissimo ha dei giardini meravigliosi con degli alberi sensazionali se qualcuno va a cogliere i frutti e gli porta le cose del giardino suo lui è abituato a quella roba eccellentissima e la gradisce ma se gli portano i frutti mezzi marci insomma o di non medesima qualità dei poteri altrui è abituato bene come è li trova difettosi ora Gesù cerca di farci capire insomma com'è anche un po' Dio e il suo mondo e la sua vita no cioè Dio è abituato così Dio è abituato a stare in compagnia delle sue perfezioni insomma della sua volontà divina quindi ciò che è strano ad essa non potrà mai essere perfettamente gradito al Signore no evidentemente e quindi ciò che viene fatto fuori del nostro volere è roba a noi strane così conclude manca l'impronta divina sono senza pienezza di gusti di luce di santità di dolcezza perché il volere umano anche alle cose più buone mette sempre la parte acerba che disgusta le cose più belle e quindi addirittura il nostro Signore dice che a volte vengono messi da parte e neppure vengono guardati quando si difette e si medita un po' ecco sulla capacità distruttiva degenerante ecco della volontà umana che purtroppo impiastra ecco qualunque cosa che tocchi è uno spettacolo un pochino triste è mortificante per noi gli esseri umani sicuramente ed anche un pochino umiliante no perché ci troviamo così vorremmo fare tante cose belle vorremmo dare al Signore tante cose belle ma se ci mettiamo a riflettere con attenzione invocando dallo Spirito Santo insomma lo Spirito di profonda umiltà ci accorgiamo che di nostro al Signore veramente gli diamo ben poco quasi niente anche se fossimo animati come certamente tutti lo siamo da tutte le migliori intenzioni di di questo mondo ma se ci mettiamo di mezzo purtroppo la volontà umana è un guaio e tutto ne viene ne viene macchiato e diventa non degno del nostro grande e deccelso Dio ecco per cui già nel silenzio ma lo faremo anche nella preghiera conclusiva preghiamo il Signore che ci dia la grazia di essere solleciti ecco attenti impegnati nell'acquisire queste attitudini che ci consentano di divinizzare un sempre maggior numero di atti per renderli perfettamente graditi a Dio grazie a tutti Grazie. 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 Grazie a tutti. Ricomincio a stagnare in una sorta di pigrizia spirituale, di inattività. Tanta pazienza, il Signore richiama e torna anche tante volte, l'ho fatto anche con Lisa per tanti anni sugli stessi argomenti perché credo conosca la nostra miseria e anche il nostro bisogno di tornare. Ci sono alcune svolte nella nostra vita interiore che arrivano apparentemente all'improvviso, ma non è un fatto improvviso. A forza di essere sollecitati dalla grazia una volta, due volte, tre volte, 40 volte, 50 volte, sullo stesso punto, un bel giorno parte qualcosa e cominciamo a fare quella particolare cosa che è tanto tempo che ci abbiamo provato, ma fino a quel momento non ci eravamo riusciti. Quindi concettici sempre di avere anche questa grande pazienza con noi stessi perché l'impazienza e la fretta non vengono mai da Dio. Se la nostra miseria e imperfezione ci ostacolano nell'entrare in questo mondo divino, dobbiamo essere pazienti, umiliarci, ricominciare da capo, mettercela tutta e aspettare che il nostro Signore ci dia la spinta ulteriore perché ciò che tanto desideriamo diventi norma e abitudine consolidata nella nostra vita. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.